Rapina da 30.000 euro alla BCC di Lucrezia. Due persone con accento meridionale verso le 12.30 sono entrati in filiale col volto travisato da una calza e in mano un taglierino. Hanno iniziato a urlare questa è una rapina, state calmi e non vi succederà niente, mettete la faccia a terra a una decina di clienti presenti. E poi si sono diretti agli sportelli, erano quattro quelli aperti, dove si sono fatti consegnare dal personale della banca tutto il denaro all'interno di un sacchetto. Poi si sono rivolti a un altro cliente che in quel momento stava effettuando un'operazione. Si tratta di un gestore di un impianto di carburante che stava versando dei soldi in cassa. I rapinatori gli hanno portato via tutto il denaro. All'esterno un complice a fare da palo e che ha atteso non più di tre minuti, tanto è durata la rapina, prima di partire a tutta velocità con una Fiat Panda verso Fano passando per le vie di campagna. L'auto è stata poi ritrovata fuori strada nella zona di Falcineto, nella quale si sono concentrate subito le ricerche dei carabinieri e della polizia. Uno dei rapinatori è stato preso poco fa dagli agenti della polizia, della squadra mobile e del commissariato di Fano, mentre gli altri due banditi hanno le ore contate.